cinghietta da buffetteria esercito olandese dismissione anni 80 90 in robusto cotone ritorto molto solida agganciabile in maniera molto semplice si infila da questa parte che si fa uscire e si fa entrare da questa in tal modo abbiamo una cinghietta molto ben chiusa può trattenere contenere oggetti agganciare materiali su vari equipaggiamenti sui mezzi ovunque lo abbiate voglia di utilizzare alla fine ha una lastrina in metallo che chiude la parte terminale in modo che non si sfilacci molto interessante due occhielli per il passaggio di eventuali cordini tipo paracorde similari questa parte tagliata per poterla inserire togliere anche con più facilità semplice robusta solida e funzionale metallo metallo e all'interno troviamo le stampigliature di produzione